Seduta di insegnamento del nuovo Consiglio Comunale di Falcone, che ieri ha eletto come Presidente Tiziana D'Acampo e come Vicepresidente Salvatore Giuffre. La seduta in via provvisoria è stata presieduta da Giovanna Bombaci, la prima degli eletti. Prima della votazione il Sindaco Carmelo Operatore aveva proposto alla minoranza il posto della Vicepresidenza a patto che le due cariche venissero votate all'unanimità, anche per acclamazione. Carmelo Caliri, a nome dell'opposizione, che poi ha votato scheda bianca, non ha accettato, ribadendo che le cariche si sarebbero dovuto attribuire solo alla maggioranza impostasi alle elezioni. Eletti infine i componenti della Commissione elettorale, effettivi Filippo Saccone, Giovanni Scarpaci e Vincenzo Mancuso, supplenti Caterina Famà, Giovanna Bombaci e Salvatore Giuffre. Il Sindaco Operatore ha già nominato cinque esperti a titolo gratuito. Gli esperti sono una prima tranche, sono quelli più istituzionali, così come avevo promesso i consiglieri non eletti avranno quasi gli stessi titoli degli assessori, perché la delega che ho dato loro attraverso la nomina è una delega ampia, molto ampia, nel settore di loro specificità, ma gli consente di partecipare ai consigli comunali, di esplicitare il loro lavoro che proporranno. Si potranno fare degli uffici comunali per elaborare proposte, per fare progettazione, progettazione non mi riferisco chiaramente solamente a progettazione di carattere tecniche, ma progettualità in senso lato, quindi anche gli esperti, così come i consiglieri comunali, così come gli assessori, avranno la possibilità di poter partecipare attivamente all'amministrazione. La mia sarà una presidenza, mi passi il termine, umile, nel senso che sarà una presidenza vicina a tutti. Io sarò presidente di tutti, sarò super partes, quindi il ruolo mi richiede di essere assolutamente vigile nei confronti di quello che è il regolamento, lo statuto e la legge. Pertanto cercherò nella massima trasparenza di far rispettare questo nel mio mandato.